Siamo Le Verità di Karma, siamo un gruppo nato da poco, portiamo questa sera 5 brani inediti. Siamo Nicola il bassista, Mariana la cantante, Clarissa la batterista e Matteo il chitarrista. Con tutto il gruppo, le gruppi e il resto dei gruppi! Stiamo partecipando oltre a questo concorso, parteciperiamo anche ad un altro concorso. Bellissima questa cosa. Le aspettative future è continuare a fare musica e andare sempre meglio e crescere. Suoniamo Alternative Rock! Saluto collettivo!